Il video della rissa era diventato virale sui social, poi un tantam su whatsapp fino a che è finito nelle mani delle forze dell'ordine. Pugni, spintoni, strattonamenti e qualcuno che cade a terra. Dieci secondi di immagini che immortalano un gruppo di ragazzi darsene di santa ragione. Era il tardo pomeriggio dell'8 maggio scorso, quando i ragazzi si erano ritrovati tutti insieme nel giardino di un locale di Fermignano, quando è scoppiata la rissa, tre ragazzi che avevano subito traumi dovuti alle colluttazioni, ferite alle mani, al labbro, agli occhi, al cranio e al torace. In due si erano recati all'ospedale di Urbino, mentre uno era stato soccorso da un'ambulanza all'esterno dell'esercizio. Non si esclude però che altri coetanei abbiano rinunciato alle cure per non essere refertati. In questi mesi le indagini della compagnia Carabinieri di Urbino hanno portato alla denuncia a piede libero di 8 giovani tra i 18 e i 22 anni, che divisi in due gruppi avevano partecipato alla rissa. Sono tutti dell'entroterra di Fermignano, Urbagna e Acqualagna. Grazie alle testimonianze e al racconto dei partecipanti, i militari della stazione di Fermignano hanno ricostruito la dinamica, accertando che l'episodio è avvenuto per futili motivi e forse anche sotto l'abuso di sostanze alcoliche. Non è stato semplice, ha detto il capitano Renato Puglisi, ricostruire i fatti e la responsabilità di ognuno. Infatti c'era un clima di umertà fra i giovani e la loro aggressività potrebbe essere legata anche a un malessere dovuto a questo contesto storico segnato dalla pandemia. Dopo un controllo ispettivo, il locale è stato chiuso per un giorno e sanzionato per non aver rispettato le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro né il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus.